Strada, fuoristrada, Jack Miller, capito? Io vado a fare un giro in moto con chi? Ah vado con Jack Miller Non ti sembra che sia stata una di quelle giornate in cui ti ricordi cosa vuol dire essere un motociclista? Ci sono dei giorni che ti ricordi di quanto è divertente le motocicliste Tu sei un tifoso degli Air Blacks e anche di Gnusino durante la Coppa America? Of course Perché un amico di mine è venuto Max! Facevo vela e motocross, poi ho fatto un botto in motocross e mio papà giustamente ha detto Tu da domani non vai più in moto Ciao! Well done! What about? You don't destroy a bike today! Ha 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 ha! Grazie a tutti.